Guardami il sederino, com'è? L'ho allenato bene? Sì, sì, va benissimo Grazie, è bello sciodo? Assolutamente sì Vero male Assolutamente sì Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki Sì, sono Steph E chi si gioca? Roblox E oggi ragazzi siamo in un tech un fantastico Perché ovvero dovremmo costruire la nostra palestra E chi non vorrebbe una palestra, dai È fantastico È super fantastico ragazzi E non solo sarà bello a livello estetico Ma potremo davvero interagire con le cose Che mettiamo dentro la nostra palestra Quindi preparati perché ci sono da fare flessioni Addominali, pesi Allora, guardate i muscoli Dove, scusa? Questi Non lo vedo Questi sono muscoli Non c'è nulla lì Il che dimostra che io le faccio tutti i giorni Capito? Quindi sono prontissima per questo tech un Guarda come iniziamo Ho più muscoli di te Quindi stai zitta Ma quando vai Guarda come iniziamo Producendo i pesi Wow Per essere coerenti con una palestra Produciamo subito Che fai? No, stavo guardando bene Perché mi piace Quando mettono i dropper Sì A tema con il tech un Lo sai che lo dico sempre Una delle cose che preferisco di più Oh mio Dio Cosa sta apparendo qua Vabbè le bibite Questa è la bibita Con la clocca cola Abbastanza classica Invece la terza è proprio una di quelle cose Che ti dà le proteine Capito? Allora Puoi vedere Guarda questi bei modettini Qualcosa di Questi bei No Allora io non voglio le cose della produzione Voglio le cose con cui interagire Muoviti Muoviti Tieni Guarda Oh Adesso sì che iniziamo a ragionare Poi questo Allora Front wall non ci interessa Music machine Allora guarda Sì sì ci siamo Ci siamo Che bello Vi spiego Qua ci sono i vari bottoni Non costano soldi Ma costano esercizi Quindi tipo No Per il sit up tool Devi fare dieci volte Dieci ripetizioni Quindi tu adesso vai qua Prendi questo bottone No no Non dirmi che Ah ok no ce l'ho Premi uno Ok Premi sinistro Oh Guardami una Due Tre Quanti ne devo fare Quattro Dieci Nella realtà Alla terza mi sarebbe già venuto un infarto Ti dico la verità Perché il mio dopo che ne fa una si alza Perché il terzo Te l'ho detto che io ho più muscoli di te Era una cosa ovvia Steph ma che combini Sta per succedere una rissa Penso che i consolini l'abbiano già vista Non ce ne siamo accorti Stanno per litigare il cane e il gatto Nella stanza Davvero Sì Quando è entrato il gatto Non ne ho più palli di te ma mi son girata per guardare te e gli ho visti litigare Aspetta vado a prendere il gatto Ora è tutto a posto Ora è tutto a posto Ora è tutto a posto Comunque Te l'ho detto che questo Tycoon è epico L'hanno fatto troppo bene Adesso capisco perché i consolini ce l'hanno chiesto così tanto Perché io questo nei commenti l'ho visto che ci è stato consigliato È vero Ponipotenza qui Ma che ponipotenza Ma smettila Mi uscirà la tartaruga nella pancia adesso Ma che Perché mi hai fatto fare il gatto in Tycoon Lo sapevi che sarebbe finita così Lo sapevi Me ne son pentito Lo sapevano tutti Capito Infatti no io me ne son pentito Comunque Camminate No scusa a me la voglio la tartaruga Aspetta Ah dai Ma ti salta nella pancia Mi è uscito secondo te No No Mi spiace ma no Quindi andiamo nel nostro Tycoon Forse se mi mettessi un po' di olio noteresti di più i muscoli no Certo Dopo lo facciamo tranquilla Ok grazie Comunque non riesco più a parlare perché ho mal di gola Eppure Poveri Eppure il moccioccio Comunque Ma smetti Continuiamo Allora Oh mamma mia Guarda Un peso più grande E una palla da basket Spum Non so perché è proprio una palla da basket E pat Bellino Ok perfetto Eh ci voleva Enorme sto Tycoon È bellissimo È gigantesco È gigantesco Vediamo qua il music machine No 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 evitiamo la music Prendimi la musica No no c'è il copyright La musica C'è il copyright Ma io voglio sentire la musica mentre mi alleno Allora facciamo così Mi è venuta un'idea Compralo Compralo Ascoltami Sì E adesso canti tu Canti tu e io mi alleno Ok Ti ho detto Con mal di gola E mi vuoi far cantare Certo Allora Sì Per questo ho bisogno di una bella canzone Dai Una roba d'upstep Sì Tipo Sento la tartaruga nascere Abbiamo finita Perché va a finire così Mi sto sentendo male Time out Ok Torniamo seri Allora Cos'altro abbiamo da fare Ok Ah qua c'è il muro Bellino Oh bello Sì 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 Oh mamma mia Vai Ciclette No Oddio dio No No vabbè Guardami Guardami No vabbè No vabbè No vabbè Fantastico Mi diventeranno le gambe di un calciatore qua Guarda Bellissimo Bellissimo Dai che ce la puoi fare Ecco Stavata Giustamente Guarda quanti muscoli ci facciamo qua Io non ci posso credere Poi Il muro di dietro Giustamente Perché ci voleva Vabbè stiamo fine No 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 Fatemi dare pugni Come si usa Non funziona No no funziona per forza No Fateci prendere a pugni questa cosa È importantissimo Tef Dimmi Ho scoperto una cosa Che cosa C'è una cosa fantastica Che devi comprare immediatamente Ok Vivi ne è com'è però Dai ti seguo Siamo un po' baggati col box Faccio finta di nulla Dimmi Questo Questo bottone lo devi premere subito L'hai scoperto So chi ha i soldi La piscina Anzi sono le scale per la piscina Quindi inizia a comprarle Io l'ho vista prima E ho fatto finta di nulla Perché altrimenti mi avessi fatto spreccare tutto Sei una persona terribile Sei davvero una persona terribile Tieni la piscina Adesso È una jacuzzi Vai Eh no vabbè Ma questa è una piscina olimpionica Ma vai No È gigante Ma io pensavo fosse minuscola Anche io Guarda No vabbè Andiamo in acqua Andiamo in acqua Ma è pieno di cose Ma cosa sono questi? La doccia Giustamente Ah no è così La cascata No vabbè Vabbè Cosa che è questa No vabbè Che cos'è? Vabbè Anche gli esercizi Il swim tool Prendilo Swimming Swimming Posso nuotare Aspetta No guardami No Se spammi tu nuoti Vieni che facciamo le vasche Dai Vieni Ok Facciamo una gara Facciamo una gara No comunque c'è No devi venire qua È troppo bello Pronto? Io non la corsia No devi immagerti Qua Ma non ci si lancia Vabbè 3 2 1 Via Nuota Veloce Veloce Spamma di più Spamma di più Velocissimo Spamma 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 Primo Non è vero Ho vinto io Sono bugiardo Ho vinto io Ho vinto chiaramente io Ma sei uno scarsone Guarda Non hai fatto abbastanza allenamento Quindi sei lento Dicevo che questo è il tycoon E forse è più bello di sempre Ogni volta lo ridiciamo Vabbè ma se ne fanno uno più bello dell'altro Non è che ci possiamo fare molto giustamente Ok il tetto Direi che ci servono le luci Eccoli Wow Lasciatemi qui dentro per sempre Cioè bellissimo No è davvero troppo bello Ci mancano mille per la cosa più bella Andiamo Quello più alto Perché siamo bravissimi Dai vieni Ma come funziona Ti ci lancia e basta Ah peccato Pensavo Bellissimo Fantastica Fantastica Allora piscina l'abbiamo finita Vabbè non c'è altro Bellissima Completata al cento per cento Anche prima della palestra E vabbè ci siamo fatti prendere dalla foga Era fantastica Ma che vuoi non prenderla Esatto Ora funziona Ora si Mi si staccano le gambe Guarda Io Gio 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 Comunque si fa una gamba Con le due gambe è facile Ci tenevo a precisare E vabbè Già ti si staccano le gambe così Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Già difficile così Quindi stai gitto Comunque adesso dobbiamo rimanere A fare ripetizioni Per tipo 15 minuti Guardami il sederino Com'è l'ho allenato bene Sì Sì va benissimo Grazie È bello sciodo Assolutamente sì Meno male Assolutamente sì No guarda Mi stanno apparendo le cose davanti I bagni Sì Questi sono gli spogliatoi Giustamente Esatto per cambiarti No scusa Esci Questo è quello per le donzelle Possiamo stare solo io Alla consolina No non hai capito No non hai capito Mi sto perdendo Tornano i bagni Negli spogliatoi Cosa c'è qui Ah la panchina Oh mamma mia Pieno di cose Dove sei finito L'ho fatto anche le lampade Quindi adesso siamo super abbronciati Sì bruttissima Dai vogliamo la faccia Super abbronciata Eh la faccia brutta Allora invece da questa parte C'è qualcosa Per gli uomini È totalmente diverso Allora dov'è quello degli uomini No No Allora aspetta Ciao Che cos'hai? La maglietta Aspetta Dov'è quello Perché mi sto perdendo Allora questo Degli uomini Esatto Ok Ma me la voglio anche io La maglietta da uomini Girati Vabbè 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 Fantastico No 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 Ti puoi mettere Il coso muscolissimo E guardami Ehi Steph No 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 Guarda Lasciamo perdere Con 250 Perché ovviamente In base a quanto ti alleni Prendi il secondo Vai Siamo ancora più grandi Allora mi esplosa la maglietta Guarda dietro Troppo i muscoli Si è spaccata Si è spaccata la maglietta Giustamente Allora adesso sono curiosa Secondo te ci saranno anche i muscoli Magari per le donne Perché questo è chiaramente Il morph da uomo Ce ne sono da uomo Ah vabbè Perfetto Perché da donna non c'è altro Vedi Puoi solo cambiarti il colore qua Sono troppo muscolosa Io per questo Corri Lo spacco in due Ma che spacchi Lo spacco in due Guardami Ma cos'è che spacchi Guardami Aspetta guarda Tu non la sai fare Si che lo so fare Guardami Anzi Oh mio dio Ecco aspetta Ora si che si ragiona Guardami Ehi bella Quanto stai alzando 850 kg Perché io prendo tutta la palestra L'alzo Così proprio Non male Ma io alzo 1.2 E a me sono anche abbronzata Cioè scherzi Più di così Guarda Perché io mi alleno tutti i giorni sotto il sole Allora Proprio per faticare di più Aspetta Guarda Io sono passato a quello doppio Scusami Spacco tutto Spacco tutto 25.000 da spendere Proviamo a vedere Se riusciamo a finire il take one Allora muro Ok Oh che belli Anche questi Scusa un attimo Sì 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 Oissa 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 Qui posso fare questo Perché ho fatto un sacco di ripetizioni Vediamo No Vabbè E giustamente questo è super Guarda Andiamo in giro Andiamo in giro Ci scontriamo No No Mi ero totalmente pagato nel terreno Vai via Davvero davvero bello Dai dai finiamo Finiamo La compra perché voglio finirlo Sì dai Sì dai Certo Abbiamo finito Ma per intenderci quanto vado veloce Fammi vedere Oh mamma mia Aspetta Oh aiuto è velocissimo È troppo veloce Troppo veloce Abbiamo finito Vero Qua sopra sì Ci sono un po' di cose fuori Sotto forse Allora qui sotto abbiamo altri esercizi da comprare Ok E pure la forma per diventare ancora più giganti Ok dai Quindi abbiamo questo Vediamo dai proviamoli ormai Allora Plank Cosa sarebbe No Questa è un'altra Ma scher E si è morto È talmente potente che ti uccide No uccide Si è andata anche la consulina Ti distrugge Invece l'altra Disgraziati No l'altra rimani normale Ma le Ducati Come vi siete Sì praticamente Sei talmente muscoloso Che vieni distrutto Praticamente i tuoi muscoli diventano troppo pesanti Il tuo corpo non riesce più a reggerli Capito Penso che sia questo il senso No Il campo da basket Aspettami Guarda Ti ho tirato il pallone Guarda No metti il canestro Dai ti prego Devi mettere il canestro Allora 3.700 Aspetta Ci dobbiamo provare Allora È difficilissimo Io ho grossi problemi Allora Qui secondo me Eh si ho visto Vabbè No è difficilissimo Ce la fai No dai vabbè Per poco Per poco Prendi questo E questo è l'altro canestro Dai vai Così finiamo Finito anche il campo da basket Perfetto Esatto Manca soltanto quel bottone quindi Questo Sì questo puoi cambiare il nome la palestra Penso che ci puoi mettere Ah ok 500 Vai vai che non mi devi mettere Tipo Bellissima Giuseppe Ti si chiama Moscow Jeff Abbiamo ufficialmente finito È finita la nostra palestra Sì abbiamo controllato tutto Non è rimasto altro Quindi abbiamo completato tutto Quanto ce l'abbiamo fatta È fantastica Comunque È stato davvero divertente Questo Tycoon Davvero bellissimo Guardatelo dall'alto Abbiamo la nostra produzione piccolina Piazzata lì Un campo da basket Una piscina gigantesca E poi una palestra Che ha davvero Qualunque attrezzo Vi viene in mente Bellissimo Tycoon È stato super divertente Avere così tante cose Con cui interagire Non capita spesso È stato probabilmente Uno dei migliori Lo mettiamo nella top 3 Quindi nei migliori 3 L'hai inventato adesso Gli altri due quali sono? Gli altri due Sono Ti voglio vedere adesso Allora Pizza Tycoon Perché c'era la pizza E poi Cosa metteresti tu? Dimmi dimmi Ah io L'hai fatta tu la top 3 No è stato arrangi Eh allora Ci metterei Non lo so Basta Finito È una top 2 Non esisteva È una top 2 È una top 2 Beh ragazzi Lì riuscite Settici un bel like E se è la prima volta Che avete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!